Inutile pensare ai progetti faraonici di restyling del quartiere quando non si riesce nemmeno a far fronte alla più ordinaria delle manutenzioni. E' questo in sostanza il pensiero dei residenti della palazzina numero 19 di Piazza Gronchi. I disagi per chi abita nel fatiscente complesso sono tanti. Si comincia con l'ascensore non accessibile e diversamente abili perché troppo stretto. Il 23 febbraio 2009 la giunta provinciale ha deliberato 99 mila euro in favore della sistemazione del problema. Ma ancora oggi i lavori non sono partiti e non si sa che fine abbiano fatto questi fondi. Ma la zona pep santissima annunziata a costola dell'agraria edificata dagli ACP vanta anche una piazza piena di buche e un tetto fatiscente che consentirebbe infiltrazioni a gogo negli appartamenti sottostanti. L'ultimo è stato ieri sera, è venuta l'ambulanza a prendere un poveretto qua che si è sentito male. Purtroppo abbiamo dovuto usare una sedia che è di quelle che usiamo in casa invece della classica carrozzina o non dico la barella fino al terzo piano, però almeno la carrozzina. Qui non abbiamo, abbiamo le scale primo ostacolo, una porta di ascensore che non si allarga mai. Abbiamo iniziato con un progetto di allargare l'ascensore, di fare l'ultimo tratto di servoscala, adesso siamo rimasti solo col servoscala, l'ascensore rimane così. Ciò vuol dire che questi 99 mila euro che la provincia ha dato all'Erap sono finiti o in altri posti o non so dove. Mia figlia è caduta, mia figlia è caduta, piena di buche, devo dire grazie che non si è fatta male, diciamo l'ho dovuta tutta cambiare, la piazza era tutta bagnata, l'ho dovuta ricambiare tutta perché mia figlia va al centro, bianca azzurro, che è una ragazza disabile al 100%, devo dire grazie che non si è fatta male, se si fa male a chi mi rivolgo io, chi mi paga i danni? Ma i problemi non sono finiti qui, c'è l'area verde incolta con erbacce da Guinness dei primati e il parcheggio sotterraneo che doveva aprire battenti mentre è rimasto sempre chiuso, meta di Bisce e Topi, gli unici probabilmente felici di vivere nel quartiere Agraria Nuova.